La scoperta della melatonina come molecola si deve a un ricercatore nordamericano, il Lerner, è un elemento nella economia biologica a una valenza primaria, perché il numero di reazioni vitali, di reazioni biochimiche in cui interveni è altissimo, a livello neuroendocrino, a livello immunitario, a livello della stabilità o meno del DNA, a livello risettoriale, della produzione dei globuli rossi, dei globuli bianchi, delle piastrine e dei rapporti fisiologici dei globuli bianchi. E viene conosciuta per l'effetto più insignificante che il sonno. Esatto, c'è molta confusione rispetto alla melatonina e troviamo anche tipi di melatonina un po' ovunque, dal supermercato, in farmacia, è diventata ormai accessibilissima, però se ne conosce veramente poco la sua efficacia e soprattutto l'abbiamo imparata a conoscere grazie a lei all'interno della multiterapia. Sì. Facciamo un po' di chiarezza, perché si conosce solo questo effetto rispetto al sonno. Chiarezza sulla melatonina è necessaria, anche perché, come diceva mio padre, quelli che ne parlano di più sono quelli che hanno meno conoscenze di biochimiche e sarebbero i meno titolati a parlarne. Lì c'è una locorrea da parte di persone che non avrebbero nessun titolo per parlarne, ne straparlano. Ci sono tanti tipi di melatonina in commercio, nessuno di questi è tossico o fa male, possono avere un'efficacia più o meno ridotta o più o meno aumentata. Dunque, i primi studi sull'effetto reale della melatonina li fece il professor Di Bello, e li pubblicò e portò una relazione a congresso nazionale di fisiologia di Alghero nel 1969. Aveva individuato, e questo è riconosciuto a livello internazionale e incontestabile, lo stretto rapporto funzionale fra le epifisi, i nuclei delle abenule, sono nuclei cerebrali, e il tasso dell'increzione di melatonina. Allora, il professor Di Bello l'aveva attivato con degli elettrodi nuclei delle abenule agli animali. Questi qua, in pratica, per capirsi così, è come se accendessero l'epifisi. L'epifisi che ruolo ha nel nostro corpo? L'epifisi ha un ruolo ovviamente vitale, perché è una gandola e produce neurotrasmettitori dell'epifisi. Ha un ruolo importante anche nelle difese immunitarie, nelle difese antitumorali, ma ha tutta una serie di azioni, anche sullo stato psichico, sullo stato cognitivo. Sono molto vaste, in parte ancora non completamente note.